bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi farò vedere appunto gli ultimi arrivi nella mia collezione tra cui ambra e diaspro ragazzi questi so che non possono sembrare pezzi di ambra infatti questa è resina di pinoghe un po diversa da quella che non ve l'avevo detto ancora che era da mandorlo molto bella ci sono anche pezzettini un po più chiari ho presa dei dei pini a proposito domani uscirà un'altra puntata di una serie che si intitola e si intitola andiamo alla ricerca dell'ambra che continuerò so che è molto bella però è sempre ambra da dico e ragazzi fra due mesi mi arriverà uno dei pezzetti di quarzo citrino li ho ordinati ho controllato che non erano dei falsi e allora li ho presi ok ragazzi fra circa uno o due settimane uscirà una specie di speciale anche se non è per gli iscritti ma voglio farvi insomma diciamo un blog questi pezzetti ho preso i dei pini e solo dove erano gli alberi tagliati e i pezzetti erano tagliati poi non ho presa quella più molle poi non ho presa quella più molle perché sennò qua questo è molto strano perché è anche un po' viola qua dentro guardate molto strano insomma queste sono tutte ambre ancora attaccate ai pini quindi ragazzi pensate quanto tempo stanno là quei pini sono grossi quindi per me sono anche secolari questi pini quindi l'ambra non è guardate qua è molto dura ecco che bello ok ragazzi adesso passiamo al diasporo guardate qua già ci siamo voglio farvi vedere altri diaspori qui altri diaspori ci sono tutti e due diaspori e c'è anche ragazzi uno che adesso non trovo però adesso lo trovo questi sono tutti e tre diaspori quello non mi piace di più è a me questo qua ok ragazzi spero che il video vi sia piaciuto come vi ho detto uscirà un'altra serie domani e poi uscirà sempre altre puntate di cerchi minerali con voi dopo domani forse ok ragazzi spero che il video vi sia piaciuto spolliciate iscrivetevi se non l'avete ancora fatto attivate la pannellina e ciao